Ciao, sono Antonio Lorenzoni, il vincitore della non edizione di Masterchef Italia e ti voglio dare il benvenuto nei miei apart suite. Come? Non sai cosa sono i miei apart suite? Sono un mix tra un appartamento completamente arredato ed una suite d'hotel. Infatti hanno la funzionalità e la comodità di un appartamento accessoriato, ma l'eleganza è la classe di una suite d'hotel. I miei apart suite sono completamente automatizzati e molto facili da utilizzare. Accedi al sito www.eleganceroom.it da ovunque tu sia. Seleziona la data e controlla la disponibilità. Scegli l'appartamento che più ti piace, inserisci le tue credenziali e paga con carta di credito. Riceverai un numero di prenotazione tramite mail. Il processo è estremamente facile e sicuro, ma il meglio deve ancora avvenire. Dov'è la novità? È tutto automatizzato. Al tuo arrivo digita il numero di prenotazione sul display qui sotto e segui le istruzioni. Riceverai un QR code e questo sarà la chiave di accesso del tuo appartamento per tutta la durata del soggiorno. Per aprire la porta ti basterà avvicinare il QR code allo scanner. Riceverai il QR code anche sul tuo smartphone che diventerà la chiave del tuo appartamento suite. Dimentica le vecchie chiavi, da questo momento non ti servono più. Sempre utilizzando il totem puoi stampare quanti QR code vuoi, consegnarli alla persona che soggiorna con te oppure inviarglieli con Whatsapp. Ti potrà raggiungere nel tuo appartamento suite anche dopo il tuo arrivo. In questo modo la tua privacy sarà sempre garantita e non avrai mai contatti con il mio staff. Che però sarà sempre a tua disposizione nel modo più semplice e veloce. Se sei già qui e non hai voglia di andare su internet e fare la procedura che ti ho appena descritto, nessun problema. Clicca ora il pulsante nuova prenotazione sul totem che trovi qui sotto di me e segui la procedura guidata. Inserisci la carta di credito per il pagamento sicuro e in pochi secondi sarai nel tuo appartamento suite. Ricorda i miei appartamento suite sono disponibili H24 7 giorni su 7. Ora goditi il tuo soggiorno, io sarò sempre al tuo fianco, dal mio sito web ai tuoi sogni.